Eccoci al Salon di Cioccolata, la prima edizione a Milano, dove i grandi nomi del cioccolato italiano non sono presenti e non può mancare Renchi con la sua produzione. Ho assaggiato da poco questa crema al cioccolato fatta con l'olio d'oliva e lo chiediamo alla responsabile del marketing che si chiama Roberta Caneschi. Buonasera Roberta. Sì, partiamo da lì, l'olio d'olio d'oliva nella crema spalmabile, è l'ingrediente principio, è quello che fa la differenza, lo usiamo come base grassa e poi abbiamo soltanto cacao e nocciole Piemonte GP. Questa è la caratteristica di questa crema che ormai è apprezzata in Italia e in tutto il mondo. In effetti ha un particolare sapore. È veramente speciale, viene spillata fresca tutti i giorni nei nostri negozi da delle vere e proprie fontane di cioccolato e quindi è anche una vera experience che noi offriamo ai nostri clienti. Verremo a fare questa esperienza. E poi abbiamo visto dei tranci di cioccolato ai diversi sentori di bollicine, giusto? Sì, quelli sono dei tranci che chiamiamo brutti ma buoni, questo caratteristico nome italiano, perché sono un po' grezzi nel look, ma ovviamente rappresentano l'artigianalità. Sono dei, a base di cacao fondente, abbiamo anche in bianco con sempre nocciole Piemonte GP, il nostro prodotto principe di quasi tutta la produzione. Ecco, è il grande momento dei di chef da qualche anno, il grande momento dell'enogastronomia, l'expo ha trainato questo settore che è importante per l'Italia. Voi come specialisti nel cioccolato in particolare, comunque nel settore dolciario, che percezione avete per il 2016? Noi sta andando decisamente bene, c'è tanto apprezzamento, si apprezza molto la qualità, motivo per il quale noi stiamo crescendo in termini di visibilità di tanti negozi, la gente apprezza veramente il prodotto. Poi avete anche un negozio a Milano? Noi abbiamo sei negozio a Milano, perché abbiamo tre negozi in pieno centro, tra il Duomo e Piazza Cordusio, Park Hayat, abbiamo la stazione Cadorna e poi ovviamente tocchiamo gli aeroporti e le stazioni che sono le nostre. Questo vuol dire che Venkia è tipicamente anche un luogo dove assaporare qualcosa prima di partire. Esatto, e soprattutto gli aeroporti sono il luogo del gelato, dove i nostri clienti, o un pasto veloce, prima e dopo un volo, hanno imparato a conoscere il gelato, che in realtà nasce dall'esperienza che abbiamo maturato nel mondo del cioccolato, e quindi le stesse ricette. Grazie, buon salone, Pasqua siete pronti? C'è una nuova campagna e pista con delle uova completamente nuove. Esatto, con negozi di uova che arriveranno in negozio subito dopo San Valentino e che rappresentano, come sempre, i nostri ingredienti, la nostra qualità, le ricette più famose e più apprezzate. Grazie, buona cioccolata a tutti. Grazie mille, buona serata. Grazie mille, buona serata.